L'universitario lo deve essere fino in fondo anche con un alloggio di qualità e il comune si sta muovendo in questo senso? È una città che deve puntare all'università, ai servizi all'universitario e che deve diventare sempre più una città universitaria. Il settore urbanistica se lo sta ponendo per il piano urbanistico generale, noi ce lo dobbiamo porre per i servizi diretti agli studenti universitari. Oggi presentiamo una guida, una guida utile non solo per gli studenti universitari ma utile anche per i proprietari di casa. Una guida in cui è presente qual è la situazione del mercato attraverso un'analisi che abbiamo fatto dettagliata su qual è il mercato cittadino e non solo, noi diamo anche informazioni su quale è la tipologia di contratto tipo utile per entrambe le categorie e quello che puntiamo è a offrire dei servizi di qualità anche attraverso lo sportello cerco alloggio per gli studenti universitari che identifica quelli che sono gli alloggi di qualità in città.